Nel senso della presentazione odierna di questa manovra finanziaria che poi dovrà essere discussa in Consiglio? È un'operazione di partecipazione di conoscenza un po' più diffusa, indirizzata alla comunità lucana, alla quale Comunicazione seguirà il dibattito in Commissione e poi in Consiglio, ma seguirà anche la nostra disponibilità a portare la manovra finanziaria che incrocia anche la programmazione 2014-2020 sui territori, magari nelle scuole, tra le imprese, tra le amministrazioni comunali. È quindi un'operazione che faccia conoscere i macro indirizzi, le macro linee sulle quali si muove la Regione. Quali sono queste macro linee? Il segmento legato all'inclusione sociale e all'emergenza sociale, ammortizzatori sociali, inderoga, copes, nuove povertà. Poi il segmento dello sviluppo, quindi una sorta di chiotto regionale sull'energia, sostegno al credito per le imprese, l'irrobustimento delle risorse per i confidi che sono un altro pezzo importante sul credito alle imprese, misure a favore dell'incentivazione e dell'occupazione per i giovani e poi l'anticipazione di 23 milioni di euro in coerenza con le linee della programmazione 2014-2020, sempre sullo sviluppo, quindi innovazione tecnologica, ricerca e altro, applicabili in settori sensibili come l'edilizia scolastica, l'edilizia in genere e l'energia, l'agricoltura. E poi c'è il terzo tema che è la governance, in cui noi sostanzialmente tentiamo di rivedere con la spending review come riallineiamo, facciamo sintesi di alcuni soggetti che pure interpretano importanti funzioni sul territorio, penso alle aree programma e al loro superamento, impegnando la giunta regionale in un'operazione che nel 2014 consegna al Consiglio, alle commissioni del Consiglio, un'idea di sintesi su funzioni e su missioni dei vari soggetti interlocutori della regione stessa o emanazione della stessa regione. Parlo del sistema idrico, parlo del comparto in agricoltura, noi abbiamo già fatto con i consorzi e con l'Arbea, lo faremo nei prossimi mesi, prossimissimi mesi con l'Alsia e lo dovremo fare anche con altri segmenti come i consorzi industriali che penso proveremo, il cui DDL di riforma proveremo domani. Senta, altri due temi sensibili che però lei ha spiegato sono strettamente connessi, Matera 2019, trasferimento sede dell'APT di Basilicata proprio a Matera. Noi intendiamo investire molto su Matera, su tutto l'arco ionico del metapontino, ma ovviamente come locomotiva di un territorio più vasto che l'intera regione. Se noi sosteniamo la bellezza di Matera, la grandezza, la grandiosità dei sassi di Matera e non solo come occasione per raggiungere la meta di Capitale Europea 2019 della cultura è evidente che vogliamo dare anche sensibilmente risorse per poterlo fare, programmazione per poterlo fare anche di qualità di contenuto e anche simbolicamente il trasferimento della sede legale dell'APT a Matera. Poi il Consiglio ovviamente delibererà e deciderà, ma mi sembra molto significativa questa cosa, senza mettere in discussione i servizi avanzati e di qualità che l'intera regione, quindi anche la provincia di Potenza, ha sempre goduto.